Beautiful anticipazioni. Fini è morto davvero? Cerchiamo di capire nel dettaglio gli ultimi spoiler della soppopera americana. Fin è un uomo perfetto e rispettabile che non è stato coinvolto in nessun tipo di dramma. Era un dottore che amava così tanto sua moglie che non ha battuto ciglio quando. Ha scoperto dell'avventura di una notte tra Steffi e Liam. Steffi, a causa del comportamento avuto da Shayla nei riguardi di Brooke, si renderà conto che la donna non è assolutamente cambiata e che è rimasta spietata e cattiva come sempre. Dietro a quella facciata da donna comprensiva, si nasconde ancora una persona cattiva disposta a tutto per ottenere ciò che vuole. Shayla stava cercando di raggirare Steffi dietro il vicolo buio, la donna e insieme all'amorevole marito Finn. Shayla reagisce alla minaccia, prende la pistola e sparerà alla giovane Forrester, ma sbaglia Mira e colpisce Finn. Che nel frattempo si era messo in mezzo per proteggere sua moglie, il giovane fa davvero una brutta fine, perdendo la vita in un vicolo buio sulla spazzatura. Successivamente anche Steffi verrà colpita da Shayla e finirà in coma, mentre Steffi tenterà di chiamare un'ambulanza per soccorrere il marito ferito, giurando a Shayla di fargliela pagare una volta per tutte. La donna spara nuovamente e stavolta colpisce proprio Steffi. Nello stesso momento Finn perde la vita. La morte di Finn non ha solo fatto arrabbiare gli spettatori, alcuni fan. Insistono sul fatto che Finn non è morto, ma sono in coma come Steffi. Altri semplicemente vorrebbero che non fosse vero. La verità è che l'attore abbia altri progetti in attesa al di fuori dello show. Per questo motivo ha dovuto lasciare lo spettacolo. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale. Grazie. Grazie.